saluti dal pitfest in olanda e ho pensato che sarebbe stato interessante fare alcuni video per il mio canale youtube in cui vi spiego che succede allora sono le tipo le 4 noi suoniamo alle 8 alle 8 qualcosa se non ricordo male siamo arrivati all'aeroporto di amsterdam dove ci hanno preso a botte no ci ha preso un pulmino il mitico shuttle buff del pitfest e ci ha portato qua due ore di macchina niente abbiamo la nostra camera d'albergo ovviamente tutto quanto subito super organizzato perché siamo in olanda non voglio fare non voglio dire che in italia è diverso diciamo qua è super organizzato super bello infatti fa strano vedere certa gente in alberghi così bellini niente più tardi adesso abbiamo come dicevo abbiamo visto ero nel backstage a parlare con quello che sarà il mio tecnico di stasera abbiamo deciso che strumentazione usare stasera stasera con la doppia cassa però con il mio doppio pedale qui sarà una finzione poster allucinante però con due casse fa più figo per le foto quindi rock'n'roll i posti qua le band devono fare il check in qui quindi questo albergo praticamente dove tutte le band dormiranno stasera e c'è anche un open bar quindi stasera c'era un casino di dimensioni apocalittiche questa è la visione fuori dal concerto c'è fuori dal concerto fuori dall'albergo a Grazie a tutti. Grazie a tutti.